L'Isola è su canale 5 in primetime mercoledì e daytime dal lunedì a venerdì alle 16.05. Italia 1 in daytime dal lunedì a venerdì alle 13 e alle 18. La 5 in daytime alle 12 e alle 16.50. Ed è sempre a portata di smartphone con hashtag Isola su App Mediaset, Facebook, Twitter e Instagram. L'Isola adesso aspetta solo i suoi naufraghi. L'Isola dei famosi. Da mercoledì 21.10, canale 5.